Siamo tutti pedoni Tante tante zone della città hanno subito, chiamiamole così, per gli automobilisti la zona 30, ma questo è per andare contro i pedoni. Sono tanti i bambini, gli anziani che hanno la possibilità di poter passeggiare ma anche attraversare su strada perché per noi la sicurezza stradale è importante, l'abbiamo sempre fatto e bisogna sensibilizzare sia i pedoni che gli automobilisti a rispettarsi. Il Comune di Bari promuove la sensibilizzazione alla sicurezza stradale ma è al lavoro per rendere le vie della città più accessibili eliminando le barriere architettoniche con interventi mirati. Il Comune di Bari è dotato di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche che sono delle linee guida per i progettisti che noi adottiamo nella realizzazione di tutte le nuove costruzioni che possono essere scivoli all'incrocio con i marciapiedi, possono essere pendenze delle strade, possono essere attraversamenti protetti pedonali, tutte cose su cui stiamo lavorando per aumentare la sensibilità. Grazie